Quattro persone, quattro uomini, incriminati in Kenya per la loro presunta collaborazione all'attacco terroristico al centro commerciale Westgate il 21 settembre a Nairobi. Sono accusati di banda armata, appoggio logistico al gruppo terroristico, ingresso illegale sul territorio keniano e falsi documenti di identità nei confronti del commando che uccise 67 persone nel centro commerciale. L'attacco era stato rivendicato da Al-Shabaab, organizzazione terrorista Somala, e le indagini si sono immediatamente concentrate in quella direzione. Si è detto molto sul numero di terroristi coinvolti nell'azione. Alla fine le autorità keniane hanno confermato cinque uomini uccisi e una decina di persone arrestate a vario titolo per essere coinvolte nella strage. Il processo per i quattro imputati inizia il prossimo 11 novembre. Il processo per i quattro imputati inizia il prossimo 11 novembre.